Oramai a Biella è far west totale a causa dell'inefficienza del Partito Democratico di governo. Parlano tanto, parole, parole, ma alla fine sia a livello territoriale che regionale che nazionale nulla si muove. Non abbiamo treni, non abbiamo la pedemontana e adesso non abbiamo neanche più i giudici di pace. Infatti l'ufficio di questa parte della magistratura è sguarnito perché il CSM ha concesso i trasferimenti senza quindi fare un turnover. Non si possono più fare le espulsioni, chi vuole ricorrere per i punti patente non potrà più farlo, chi vuole ricorrere contro l'assicurazione non potrà più farlo. Una sinistra parolaia che crea problemi e non li risolve. Quindi sarebbe interessante capire perché i biellesi devono ancora continuare a pagare le tasse se nulla viene dal governo in termini di efficienza ed efficacia. La Lega Nord presiderà il territorio, soprattutto là dove si può inserire la criminalità, nei centri di accoglienza, dove il questore ci dice che gira la droga e questi spacciano. Non si possono neanche più espellere questi spacciatori perché non ci sono i giudici di pace.